Dolore, sconforto e incredulità sono i sentimenti che animano la comunità licatese colpita dalla strage che si è consumata nelle campagne della cittadina grigentina. Il ricordo delle vittime è stata intanto proclamata una giornata di lutto cittadino mentre per i funerali ci sarà ancora da attendere. Intanto la procura di Agrigento guidata da Luigi Patronaggio ha conferito l'incarico al medico legale per effettuare l'autopsia sulle quattro vittime della strage di Contrada Saffarello. Il medico legale comincerà già oggi con gli esami che verranno effettuati nella camera mortuaria dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento ma appare improbabile che possano essere ultimati in giornata. I carabinieri della compagnia Delicato hanno inoltre accertato che anche Diego Tardino, il 44enne ucciso assieme alla moglie e ai due figli di 15 e 11 anni dal fratello Angelo poi morto suicida, aveva una pistola regolarmente detenuta. L'arma però è rimasta all'interno della cassaforte nella sua abitazione di campagna. La vittima di fatto non si aspettava che il fratello più grande fosse armato e ieri mattina di buon'ora gli ha aperto tranquillamente la porta di casa. Gli investigatori non sono riusciti ad aprire la cassaforte di Diego Tardino e hanno chiamato in serata i vigili del fuoco ed un fabbro. All'interno è stata trovata una pistola regolarmente detenuta dalla vittima. L'uomo aveva anche un fucile trovato in casa e una vecchia carabina. Angelo Tardino, 48 anni, che dopo aver ucciso il fratello e la cognata e i due nipotini si è tolto la vita, aveva invece quattro armi, anche queste regolarmente detenute. La comunità ecclesiale di Riccate intanto con i suoi parroci prende atto con profonda costernazione della strage in cui hanno perso la vita i due piccoli innocenti. Riaffiora il dramma di Caino, specchio di una società malata e confusa che cerca il profitto calpestando il diritto alla vita, scrivono i parroci licatesi. Come comunità ecclesiale non possiamo tacere, abbiamo il dovere di annunciare il Vangelo della misericordia, del perdono, del rispetto per le vite, dal suo nascere al suo naturale compimento e di affermare soprattutto il primato dell'essere sull'avere. A nome di tutte le comunità parrocchiali di Licata, concludono i parroci, esprimiamo il nostro profondo cordoglio ed affidiamo a Dio della misericordia, dell'amore questi nostri fratelli e sorelle che hanno tragicamente concluso la loro vita terrena, assicurando la nostra preghiera e vicinanza a quanti sono stati colpiti dal grave e pesante lutto.